C'è qualche situazione delicata purtroppo ancora legata all'emergenza Covid e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi, sia quelli comunali, quindi palazzette e osport, che soprattutto le palestre scolastiche. Però è un argomento che sicuramente porteremo l'attenzione del Consiglio regionale. Consapevolezza del gran lavoro da fare, la certezza di poter contribuire ancora alla crescita del basket regionale, idee chiare nelle parole di Francesco Damiani, avvocato barese che è subentrato a Margaret Gonnella alla guida della Feder Basket Puglia per il quadriennio 2021-2024. Nel pre-Covid la situazione del basket pugliese era buona a tutti i livelli. Se guardiamo già dalla Serie A del Brindisi che ancora una volta stava recitando un ruolo da protagonista, ma scendendo anche in A2 con il Sansevero che dopo un periodo di difficoltà era riuscito a riprendersi e aveva ottime possibilità di salvezza, fino ad arrivare ai nostri campionati dove la situazione era certamente buona. Una vita da responsabile delle selezioni regionali giovanili partecipando a nove edizioni del Trofeo delle Regioni e segretario dell'Ussipuglia. Damiani conosce bene limiti e potenzialità di questo sport in questo particolare momento. Tra i primi a fermarsi per il lockdown è chiamato a ripartire dopo oltre sei mesi di stop. C'è da far quadrare un po' i conti perché anche gli sponsor accusano il periodo di lockdown e la pandemia. Però devo dire che a livello di campionati senior la situazione è buona. Non abbiamo avuto grossi problemi per definire gli organici sia della Serie C Gold che della C Silver ma anche in Serie D. Quindi sono confermati gli stessi numeri di società dell'anno scorso. Tornare sul parquet e rimettere la palla a spicchi al centro di tutto. La Puglia del basket riavvia i motori così e senza dimenticare il sorriso. Alcune squadre che l'anno scorso partecipavano alla Serie C Gold sono riuscite a ottenere il ripescaggio in Serie B, quindi nei campionati nazionali. Parlo del Cusionico Taranto e del Molfetta e questo vuol dire che il movimento è vivo, è in salute.